torna anche quest'anno questa bella festa popolare è legata alla venerazione della madonna delle grazie quali sono gli appuntamenti per domenica allora domenica 21 tutti nella chiesetta della trave per questa favolosa festa che replica per la seconda volta ed è una festa tanto sentita dagli abitanti della trave perché proprio nasce da una tradizione che ci hanno che ci hanno tramandato i nostri nonni per cui i nostri nonni i nostri padri che adesso non ci sono più ma che proprio ha creato intorno alla chiesetta il momento di aggregazione di venerazione di questo quadro e noi siamo felicissimi di portare avanti questa bella tradizione e quindi la festa del mese di maggio la festa della madonna e diventa un appuntamento ormai anche per noi fisso tutti gli anni il 21 maggio e l'iniziativa esattamente a che ora inizierà l'iniziativa inizia alle ore 17 con la celebrazione della santa messa prendo l'occasione per anche ringraziare la parrocchia san pio decimo e don giovanni frausini il nostro parco dopodiché la festa avrà luogo con dei giochi per grandi e piccoli e ovviamente un buon cibo una mostra fotografica molto bella che è stata proprio fatta minuziosamente con la ricerca di tanto materiale anche proprio delle vecchie edizioni della festa che erano fatte negli anni 50 60 dei super 8 recuperati e restaurati dell'ultima processione che è stata fatta in via trave quindi un materiale molto interessante e molto bello da venire a vedere poi attrattive premi tante cose in caso di maltempo allora in caso di maltempo rimandiamo tutta domenica 28 stessa ora stesso programma